Zerbino robust Zerbino 100% in lattice, super robusto e inalterabile Estremamente pratico, non teme l'usura e gli sbalzi termici È il prodotto ideale per un contesto industriale ad alto calpestio o anche come semplice zerbino È disponibile in tre misure, pensate sia per gli ingressi di casa che per gli ingressi professionali Grazie agli appositi giunti, facilmente applicabili su quattro punti di ancoraggio Permette di ricoprire anche grandi superfici Prodotto già disponibile